A noi sicuramente non ci ha fatto nulla. Diciamo che Ranciano è entrato in campo con più voglia di noi, secondo me. Noi il secondo tempo siamo entrati bene e secondo me abbiamo eccesso poco. Solo sono partiti di partenza e basta. Noi adesso voltiamo pagina che sabato c'è il Barise che è una grandissima squadra. Durante la settimana adesso ci dobbiamo preparare per questa squadra che ha un organico pazzesco. Dobbiamo lavorare per fare bene la figura sabato. Io mi provo bene in 3-5-2. Io mi allenavo anche a Napoli quando avevo l'opportunità di allenarmi con la prima squadra. Anche con Mazzarri ho fatto un allenamento, le partite amichevole e ho sempre fatto il 3-5-1. Poi non ho difficoltà. Io non mi dice di giocare 3-5-2, gioco 3-5-4. Però lo preferisci? Sì, lo preferisci. No, come abbiamo fatto con Ternana e Novara. Dobbiamo avere fame, tutti, di giocarci la nostra partita perché noi non abbiamo niente da perdere. Sono loro una squadra fuori organico forte. Anche noi, anche per i nostri compagni, però noi dobbiamo pensare a noi stessi e di fare bene. O loro davanti hanno un ottimo giocatore. Io in questa maglia, l'ultimo giorno che me la sono messa addosso, ho già sentito un peso. Poi all'esordio non ho fatto bene. Poi io credevo in me, alle mie qualità e sapevo che potevo fare bene, che potevo dare una mano a questa squadra che aveva bisogno di me. È questo che ci fa, è questa che è la nostra forza, che siamo sempre uniti e mettiamo tutto in campo, sia per noi stessi, per i tifosi e per questa maglia che ha un valore. Sì, mi sentiamo a Nazionale, mi fa piacere. Adesso penso solo all'Avellino e fare bene con l'Avellino perché ti ripeto, qua ogni sabato affrontiamo una squadra una più forte dell'altra. Poi arriva a Nazionale, sono contento e adesso non ci sono stato, non di Bianchi. Ho parlato con lui e niente. Mi tiene in gran considerazione. Poi sta a me dimostrare se sono di quella maglia. Perché dal primo giorno ho visto, diciamo, non lo stadio è pieno come quest'anno ma se lì con calore è forte. Perché io ben dodici anni fa venivo allo stadio già a Avellino-Napoli. Venivo con mio padre allo stadio e non mi credevo che un domani giocassero questa maglia addosso. Poi è arrivato e do tutto a me stesso per questa maglia.